Shalom l'achiria, bella tachezza. Coloro i quali dicono che i sacerdoti, i religiosi e le suore sono gente inutile, hanno in questo santo una solenne smentita. Giovanni da Capestrano fu prete, religioso, apostolo, guerriero e accorto diplomatico. Suo nome merita di stare accanto a quello dei più grandi uomini della storia. Nacque a Capestrano in Abruzzo. Fece suoi studi a Perugia, ove fece tali progressi specialmente nel diritto, che Ladislao, re di Napoli, gli affidò il governo di parecchie città del suo regno. Mentre il santo si sforzava di apportare la pace tra le fazioni, fu preso egli stesso e legato. Liberato insperatamente, entrò nei minori francescani, ove fu discepolo di San Bernardino da Siena, dal quale apprese specialmente l'amore al nome di Gesù e alla Vergine Santissima. Amore e culto che poi propagò grandemente. Ricusato per umiltà, il Vescovado di Aquila si diede alla riforma dei costumi, con l'esempio e con gli scritti. Percorse quasi tutta l'Italia, predicando e conducendo innumerevoli anime a Dio. Da Papa Martino V fu creato inquisitore per l'estinzione della setta dei fraticelli. Niccolò Quintoro lo creò inquisitore generale d'Italia contro gli ebrei e i saraceni. Nel concilio fiorentino ricondusse alla chiesa romana gli armeni. A distanza dell'imperatore Federico III fu mandato come nunzio in Germania, per convertire gli eretici e pacificare i principi. In sei anni di ministero in quelle regioni, con l'esempio e con la parola confermata da Dio anche per mezzo dei miracoli, condusse a Dio innumerevoli ussiti, adamiti, taboriti ed ebrei. Ricevuta da Papa Callisto III, la missione di predicare una crociata contro i turchi, in breve tempo radunò 70.000 guerrieri cristiani che, spinti dalla sua infuocata parola e guidati dal prode Uniade, riportarono la strepitosa vittoria di Belgrado, in cui dei 150.000 turchi gran parte rimase uccisa e parte si salvò con la fuga. L'annunzio di questa vittoria giunse a Roma il 6 agosto e Papa Callisto III, a perpetuare la memoria di questo giorno, istituì la festa della trasfigurazione di nostro Signor Gesù Cristo. Il nostro Santo, ormai aveva compiuta la sua giornata, stato da grave malattia e, trasportato a Villech, fu visitato da molti principi. Tutti furono esortati a conservare la giustizia e a difendere la religione. Rese la sua bell'anima a Dio nel 1456. Alessandro VIII lo annoverò tra i Santi e Leone XIII ne estese la festa a tutto l'orbe cattolico. Insegnamento. Saremo utili alla Chiesa e alla società, se adempiremo bene i doveri del nostro Stato. Preghiera Dio, che per il Beato Giovanni hai fatto trionfare, in virtù del Santissimo nome di Gesù, i tuoi fedeli sui nemici della croce, De, fa che, superate, per sua intercessione, le insidie degli spirituali nemici, meritiamo di ricevere da te la corona di giustizia. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.